Benvenuti i nostri telespettatori qui a Caritas Insieme TV, riprende la nostra programmazione consueta con lo studio e i servizi e in studio quest'oggi c'è con noi Monsignor Vescovo perché anche quest'anno offre alla sua gente una lettera pastorale, una lettera pastorale nuova ma non con temi totalmente nuovi. No, è una lettera pastorale in continuazione a quelle che mi sono impegnato ad offrire gli anni passati e che fa mi pare un po' da ponte verso i nuovi programmi del mio servizio episcopale. Una lettera pastorale che ho preparato mentre è in corso la visita pastorale, finora ho visitato 227 parrocchie, me ne mancano 29 per concludere questo giro e in corso d'opera ho pensato di fare qualche riflessione su questa esperienza della visita pastorale. In realtà nella lettera poi c'è ben altro perché vengono ripresi tutta una serie di temi importanti, penso alla famiglia, penso al problema educativo, alla sfida educativa e poi anche altre cose curiose, per esempio a un certo punto si parla dell'anno laurenziano, di cosa si tratta? La lettera pastorale è concepita in tre parti, nella prima parte dedico alcuni paragrafi di riflessione sulla visita, nella seconda parte richiamo l'attenzione dei cattolici della nostra diocesi all'anno Paolino, voluto da Papa Benedetto e in conclusione mi soffermo su quest'anno laurenziano. L'anno laurenziano fa riferimento ai 1750 anni dal martirio di Lorenzo, martire di Roma, martirizzato nel 258, quindi siamo a 1750 anni da questo evento. Lorenzo che a Roma ha una forte devozione, mi pare che una trentina tra chiese e oratori sono a lui dedicati e che è anche il santo titolare e patrono della nostra chiesa cattedrale. Ho pensato di dare risalto a questo avvenimento, a questo evento per far tre considerazioni. Innanzitutto considerare l'attività del diacono Lorenzo a servizio dei poveri e a servizio del vescovo di Roma, che con lui ha conosciuto il martirio, per fare una riflessione sul significato della chiesa diocesana e per annunciare l'inizio dei lavori di restauro interno della nostra chiesa cattedrale. San Lorenzo che è, tra l'altro, noto al pubblico forse per via delle stelle cadenti, se non sbaglio. Sì, è legata alla sua ricorrenza annuale il 10 d'agosto, questo fenomeno delle stelle cadenti, quindi la notte di San Lorenzo diventa anche la notte di questo spettacolo del cielo che piange o che mostra una delle sue innumerevoli meraviglie col fenomeno delle stelle cadenti. Lorenzo che si è occupato di poveri, lei nella sua lettera pastorale ha riportato la questione dell'attenzione ai poveri e della carità in generale, non solo in questo frangente, in questo frammento, ma anche riferendosi per esempio alla preparazione catechistica, quindi all'iniziazione cristiana e all'inserimento di questa dimensione della carità anche con i ragazzi, per esempio, della Cresima. Sì, io credo che questa delle povertà, delle nuove povertà, delle problematiche legate alle difficoltà che tante famiglie oggi conoscono di fronte alle difficoltà finanziarie nuove debba essere una delle priorità che la nostra Chiesa riscopre, per la quale deve prestare i suoi servizi con tutte le forze limitate, misurate che ha, ma con una scelta di attenzione prioritaria alle povertà materiali e economiche, ma anche alle grandi povertà morali e spirituali che macchiano il nostro tessuto sociale. Lei a proposito di questo fa un discorso che mi sembra anche molto radicale, nel senso che parla della scelta dei poveri non tanto come una scelta verso i poveri, ma quanto come una scelta della Chiesa che riscopra la sua dimensione di povertà e di condivisione. Mi pare che sia una testimonianza che la Chiesa è chiamata a dare perché la sua azione non deve basarsi sulla forza dei mezzi materiali, economici, umani, ma deve aprirsi sempre più al dono della carità e dell'amore di Dio da praticare soprattutto nelle situazioni di difficoltà e di fatica che oggi per aspetti e problematiche diverse incontriamo. Un'altra parte della lettera invece è dedicata all'anno Paolino, anche questo è una novità abbastanza nella Chiesa, ma è un'occasione importante, credo. Io sono veramente grato a Papa Benedetto che ha avuto questa intuizione di voler dedicare un anno particolare alla considerazione di questo grande personaggio della Chiesa Primitiva che è Paolo di Tarso. Si può discutere sulla scelta della data, non tutti sono concordi nell'indicare l'anno 8 dell'era cristiana come l'anno di nascita di Paolo. Paolo è una scelta convenzionale, ma che Paolo si è esistito e che possa essere ricordato nel 2000esimo anniversario della sua nascita è un fatto significativo e importante e credo sia da tenere presente, da sottolineare e da valutare bene perché il nostro tempo ha delle similitudini col tempo della decadenza dell'impero romano in cui Paolo è vissuto, della prima espansione del cristianesimo e anche noi abbiamo questa necessità di ridare vitalità al nostro cristianesimo che è confrontato con molte problematiche, avversioni, incomprensioni, indifferenze e quindi avere a disposizione un anno per ripercorrere soprattutto la vita, ma più che la vita gli scritti, le lettere di Paolo e anche quelle che a lui si riferiscono ma sono piuttosto opera delle sue chiese, del gremio dei suoi discepoli, secondo me è un'occasione preziosa e importante per dare vitalità alla nostra azione pastorale oggi, soprattutto nell'indirizzo, nella linea, nell'impegno di una nuova evangelizzazione di cui avvertiamo sempre più l'urgenza e la necessità. San Paolo però è una figura scomoda nel senso che ultimamente è stato oggetto anche all'interno stesso della chiesa, diciamo della comunità ecclesiale di critiche, a parte quelli che dicono che è lui che ha fondato il cristianesimo, ma qui c'è un errore storico palese, però è vero che San Paolo ha delle posizioni a volte difficili da comprendere nel nostro contesto? San Paolo ha delle posizioni difficili da due punti di vista, un primo punto di vista perché è anche lui legato al suo contesto culturale, quindi certe posizioni culturali sembrano un poco superate, lo si accusa di essere maschilista, di non valorizzare sufficientemente le donne, oppure di essere troppo legato alla sua formazione rabbinica, d'altra parte però San Paolo è colui che ha spalancato le porte del cristianesimo all'universalità, al mondo pagano e che ha proclamato come qualificante per il cristianesimo da una parte il dono di di grazia che ci viene per la rivelazione e dall'altro la libertà che la grazia concede all'uomo per seguire senza condizionamenti, senza pregiudizi, senza chiusure questo dono della salvezza di Cristo. Quindi è un personaggio certamente chiave, importante, da riscoprire, da rileggere e da rendere attuale nella nostra vita ecclesiale. San Paolo però è anche quello che in qualche modo può essere accusato di essere tra virgolette all'origine della riforma protestante, in fondo questo atteggiamento suo rispetto per esempio alle opere e al rapporto con la fede sembra abbia dato origine poi a un fraintendimento grave insomma nella chiesa. Ma credo che il fraintendimento sia dovuto a una lettura pregiudiziale, polemica ed errata, mettere in contrapposizione Paolo con Giacomo ad esempio è frutto di una cattiva lettura, Giacomo e Paolo sono d'accordo nel senso che Paolo combatte le opere in quanto sono frutto della legge, ma dice anche lui che la grazia e la fede senza le opere non risulta vitale, non risulta significativa e in questo senso che Giacomo dice che la fede senza le opere è morta. Le opere che devono dare lustro, luce, visibilità alla fede, non le opere che sono frutto della legge, degli schemi, dei riti, delle esteriorità, anche da questo punto di vista una rilettura puntuale che fa superare incomprensioni e pregiudizi mi pare molto importante. Quindi le opere di San Paolo le potremmo chiamare la carità per esempio? Certo, le opere di San Paolo sono quelle che vengono dalla fede e la fede si esprime nella carità, sono le opere della carità e in questo senso si esprime anche San Giacomo, la fede che non sia carità, che non sia opere, azione visibili e concrete sarebbe una fede vana, inconsistente, vuota e in questo i due grandi apostoli convergono. Tra l'altro lei propone quest'anno di leggere una lettera significativa da questo punto di vista di San Paolo che è la lettera ai Galati, se non sbaglio il tema della legge e delle opere viene affrontato grandemente. Certo, tra le tante lettere di Paolo la scelta è caduta sulla lettera ai Galati perché da un certo punto di vista è abbastanza autobiografica, spiega il cammino di conversione che è intervenuto in questo rabbino raggiunto dalla grazia del risorto e al tempo stesso perché mette a fuoco una delle tematiche centrali che è proprio questa della grazia e della libertà con cui siamo liberati per seguire il Signore Gesù nella sua grazia liberi da ogni condizionamento e peso di formalità umane. Lei tra l'altro ha un legame personale con San Paolo, almeno nella sua ordinazione sacerdotale se non sbaglio. Episcopale, io sono stato consacrato vescovo, ordinato vescovo il 25 di gennaio che è il giorno nel quale ricordiamo la conversione di San Paolo e questo me lo fa essere anche particolarmente vicino e per quel giorno è previsto nella lettera ne faccio cenno una celebrazione particolare in una delle pochissime chiese che nella nostra diocesi forse sono un paio le chiese dedicate a San Paolo, una di queste chiese è la chiesa rossa di Arbedo dove quel giorno vorremmo ricordare assieme questo evento della conversione di Paolo anche per precisare che comunque non è stato un raptus, non è stato un evento così come spesso i pittori amano rappresentare la caduta da cavallo sulla strada di Damasco, la manifestazione dell'inizio di un cammino e di un itinerario che comprende tutta la vita dell'apostolo che cresce nel confronto, nell'esperienza, nelle discussioni, nella verifica, nelle lotte per arrivare sempre più a capire che la salvezza è Cristo e che per un cristiano la salvezza consiste nel vivere secondo Cristo la sua legge che è l'amore nella fede e che dona speranza e dimensioni di eterno al nostro cammino terreno. Verso la fine della sua lettera lei fa un discorso dove invita a riscoprire l'appartenenza alla diocesi e lì c'è un punto che mi è sembrato un po' non troppo chiaro, almeno magari perché io non conosco a fondo la situazione della diocesi, ma lei accennava alla possibilità che in fondo alcuni sacerdoti in particolare si trovassero un po' un po' separati o comunque un po' in un atteggiamento in cui l'adesione alla diocesi sembra un po' solo formale. Cosa voleva dirci in realtà? Ma volevo richiamare l'attenzione su una delle problematiche di oggi nella vita ecclesiale, il rapporto tra la Chiesa come istituzione e questi movimenti dovuti a particolari carismi e doni che dentro la Chiesa si muovono, la vivificano e qualche volta non sempre ci si incontra, sembra che gli interessi, le attenzioni portino su cammini diversi. Tra l'altro lei parla anche bene nella lettera dei movimenti, quindi non è un atteggiamento polemico nei confronti dei movimenti, anzi li giudica molto positivamente. Ho appena partecipato a un seminario di studio a Roma seguendo un invito di Papa Benedetto che dice accoglieteli con amore questi movimenti, eventualmente valutateli, giudicateli, aiutateli nel loro cammino che possano comprendere l'insieme delle problematiche di una evangelizzazione nel nostro tempo e porto anche così un'esemplificazione che mi pare abbastanza chiara. Qualcuno in quel convegno diceva ma abbiamo l'impressione che i Vescovi ci chiedano di rinunciare, il Signore ci ha dato due occhi, ci ha dato due mani, due braccia, due gambe, ci ha dato due orecchie, qualche volta ci pare che i Vescovi vogliono deprivarci di una. No, non è questo, i Vescovi non vogliono mutilare nessuno, però i Vescovi vogliono ricordare che due occhi, due orecchie, due braccia, due gambe vanno bene, ma che c'è una testa sola, che c'è una bocca sola, che c'è un cuore solo e che c'è questo problema di comporre in unità perché altrimenti è la dissociazione, è la disgregazione, è la rottura. Allora, come far convergere la pluralità dei doni e dei carismi in una unità che sia per il servizio unitario, comunionale di tutto il popolo di Dio? Un atteggiamento di convergenza, lei lo ha tenuto nella sua lettera anche rispetto alla questione educativa, ha proposto un cammino in cui in qualche modo si cerchi di incontrarsi, quindi senza pregiudizi, senza chematismi, senza steccati, ma cercando le soluzioni migliori. Ecco, lei ha proposto una serie di soluzioni in un certo senso equivalenti o comunque che potevano essere affrontate tutte con sensibilità. Ma sì, credo che dobbiamo proporci questo traguardo di una armonia anche in campo educativo, sia perché dobbiamo comporre in unità la persona che è fisico, che è corpo, che è materia, che è spirito e le due componenti non devono sacrificare l'una a scapito dell'altra e non sempre è facile trovare la concordanza armonica. Vedo il bene che non faccio e faccio il male che non voglio, dice San Paolo. C'è questa tensione, questa lotta a livello personale. C'è questo contrasto, questa complessità da condurre anche nella scuola. La scuola è solo istruzione, deve solo dare nozioni, deve accrescere le conoscenze, deve curarsi solo dell'intelligenza oppure deve anche essere educativa, deve anche formare la volontà e il carattere. Credo che davvero l'impegno è di fare armonia, di fare unità, di offrire quelle esperienze perché possa crescere la persona nella globalità delle sue caratteristiche. Lei parla nella sua lettera della visita pastorella, anche se non è terminata evidentemente, ma dando anche delle belle testimonianze di quella che è stata la sua esperienza in giro per il Ticino. Sì, innanzitutto sentivo il bisogno di giustificare il perché della visita pastorale che non sembra un'iniziativa del Vescovo Grampa, magari più movimentista di altri suoi predecessori, ma la visita pastorale, il titolo della lettera lo indica, non fa che ricalcare quello che faceva Gesù che andava di villaggio in villaggio, così il Vescovo va di parrocchia in parrocchia, di paese in paese per incontrare la gente là dove vive. Facendo questo esprime una sua caratteristica, una sua preferenza di essere un Vescovo in cammino, in azione, piuttosto che un Vescovo di studio, sedentario, di burocrazia, o che passa carte e risponde anche a un'esigenza della legge della Chiesa che propone e richiede ai Vescovi di visitare la loro diocesi in tutte le parrocchie ogni cinque anni. Do le motivazioni all'ora della visita pastorale e poi dico che cosa voglio raggiungere con la visita pastorale. Per essere breve e concreto voglio che lo spirito del concilio, che è l'ultimo grande avvenimento che ha conosciuto la nostra Chiesa il secolo passato, passi col suo spirito, con le sue dottrine, i suoi insegnamenti, la sua disciplina nelle nostre comunità. Quindi mi preoccupo di vedere se le quattro costituzioni, quella sulla parola di Dio, quella sulla liturgia, quella sulla Chiesa come comunione di persone invece che come struttura, quella dei rapporti Chiesa e mondo, se questi insegnamenti, questo spirito del concilio sta passando, conosce degli ostacoli, magari addirittura delle involuzioni. Questa è una prima considerazione che emerge dalla visita pastorale. La seconda è mettere a fuoco certi problemi di interesse anche più generale, questo problema degli stranieri che arrivano da noi, quindi la loro integrazione, con che spirito, come li affrontiamo, con paura, con dialogo, quale deve essere la modalità perché ci sia un incontro nella chiarezza, nella fermezza, ma anche nell'accoglienza reciproca e poi ritorno su due o tre temi d'attualità come sono quelli della famiglia, quelli dell'educazione e uno in particolare che riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole nostre pubbliche perché mi pare essere all'attualità della vita anche politica del cantone e quindi esprimo con libertà ma anche con molto rispetto qualche considerazione per aiutare a trovare soluzioni armoniche e che non riaprano vecchie diatribe o non alzino nuovi steccati. Il paese ha bisogno di unità, di unione, di convergenza e non di lotta. In questa ettera c'è anche un grande affetto per i suoi sacerdoti. Ma se lei ha percepito questo le dirò che mi fa particolarmente piacere e tenerezza, è vero, il vescovo dei suoi preti deve essere fratello, deve essere padre, deve essere con loro e al loro servizio e deve avere comprensione per la situazione qualche volta difficile, delicata, anche di solitudine in cui si trovano. Se lei ha percepito questo sono grato per la sua lettura attenta e effettivamente vorrei che emergesse anche questa dimensione del servizio del vescovo per la sua chiesa. Ringrazio Monsignor Vescovo che ci ha accennato a questa lettera che naturalmente va letta nel suo insieme nella sua totalità ed è disponibile presso la Curia di Lugano e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie.